successo di tutto nei cinque minuti finali della partita la garra charroa per la lussitana si diciamo diciamo come al solito abbiamo messo quel qualcosa in più negli ultimi minuti e quindi naturalmente un po di batti becchi un po di ma alla fine siamo usciti dal campo dove abbiamo siamo sicuri che ce l'abbiamo messa tutta tante occasioni avete creato nel primo tempo non siete riusciti però a finalizzare no purtroppo purtroppo no peccato abbiamo creato veramente veramente tanto davanti al portiere purtroppo non siamo riusciti a buttarla dentro e ci rifaremo la prossima sei rientrato da poco come ti senti fisicamente fisicamente al momento mi sento bene naturalmente non ho ancora la brillantezza dei miei compagni e quindi ci vorrà tempo